Finti operai dei comune e falsi tecnici del gas. E' di nuovo allarme Iserni nel resto della provincia ai danni degli anziani, vittime di furti e truffe. Numerose le segnalazioni negli ultimi giorni di personaggi sospetti e purtroppo in crescente aumento i colpi messi a segno soprattutto nella periferia della città. Dal comando dei carabinieri arriva un forte appello per la cittadinanza, quello di rivolgersi senza indugio alle forze dell'ordine nei casi sospetti o comunque quando si è solo in casa. Analoga collaborazione si richiede alla popolazione affinché vengano prontamente segnalati mezzi o individui sospetti che si aggirano per il territorio. La metodica dei malviventi resta sempre la stessa. Gli sconosciuti si presentano a casa degli anziani, tentando di entrare e usando le scuse più disparate, operai del comune, addetti al recapito della spesa, impiegati del gas, riuscendo così a far abbassare la guardia ai malcapitati, che invece diventeranno vittime di truffe o furti. Per questo motivo il comando provinciale dei carabinieri di Isernia ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio. La vigilanza sarà infatti estesa ai centri abitati, lungo le principali vie di comunicazione, ma anche nelle zone rurali e le abitazioni più isolate. Impiegate nelle attività tutte le compagini, stazioni in nucleo operativo e radiomobile. Stazione mobile nonché personale in abiti civili delle compagnie di Isernia, Benafro e Agnone, tutti operativi per intercettare e contrastare eventuali criminali intenzionati.